Sì, questo è un principio di paresi. Sì, questo è un principio di paresi, la ragazza ha sfondato la porta della casa, come si è andata a scappare, e correva, correva a capo elevato, non mi venite dietro, lasciatemi perdere, voglio stare sola, voglio parlare, andate, 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 andate. E' arrivato a quel bonticello, quello che dà sul torrente, che cos'ha fatta la rana? Ha preso un fiancone di tanto, l'ha legato ad una fune, se l'ha messa al collo, con l'anaettrica, e si stava scelta a boccia, basta, lo faccio finito, voglio morire, lasciatemi morire! Ma perché? Di gioia!